Mi spiace, io avevo invitato il commissario in quanto rappresentante del comune dal momento che non abbiamo il sindaco. Non ho invitato nessun altro, non ho invitato né i carabinieri né il comandante, è soltanto una festa dei bambini. Quindi se si vuole intendere come invito allargato non sono stati fatti questi inviti. Perché io stamattina voglio che siano i bambini a godere di questa palestra, altrimenti avrei invitato tutti i genitori del plesso. Penso di fare qualcosa del genere quando sarà, ma non è stato questo oggi il mio intendimento. Mi spiace se viene frainteso. Oggi i bambini canteranno l'inno d'Italia, avranno modo di mangiare un dolcino. Mi spiace, mi spiace tanto se viene frainteso. Capisco che il momento è un momento particolarmente difficile a Gran Michele. Perché ho capito dalle telefonate che si intende come una campagna elettorale che io non intendo assolutamente fare. La scuola non ha nessun interesse a privilegiare uno o un'altra persona. Devo dire che io nei quattro anni che sono stata qua preside e ho lavorato su questo progetto, ho lavorato con il mio supporto a Ruppi che è Lorella Grosso e ho lavorato in collaborazione col sindaco Canzoniere. Questo non toglie che non debba dirlo, perché non è una cosa che posso nascondere. Mi spiace se altri si sentono offesi. D'altra parte io nei tre anni e mezzo, questi quattro anni di dirigenza, ho avuto l'alternarsi di quattro o cinque assessori alla pubblica istruzione. Voi capite che questo non ha potuto fare crescere nessuna attività che possa migliorare la scuola.